1.250 autobus intelligenti di ultima generazione per rinnovare il 90% dei vecchi mezzi di trasporto da qui al 2010. La regione punta ancora sull'integrazione tra ferro e gomma per dar vita ad un più efficiente sistema della mobilità in Campania. Continua nel campo del trasporto pubblico quella vera e propria rivoluzione nella quale siamo impegnati. Siamo davvero in questo campo, nel campo del trasporto e delle infrastrutture, una regione all'avanguardia che è molto avanti anche rispetto alle regioni del nord più sviluppate. Un investimento di oltre 290 milioni di euro effettuato con una procedura del tutto innovativa. Per la prima volta in Italia una regione acquista direttamente gli autobus dagli aziende costruttrici con un'unica grande gara europea. Noi abbiamo scelto il meglio possibile chiedendo in questo modo a tutte le aziende che hanno partecipato e la partecipazione è stata ampia da tutta l'Europa degli standard di qualità elevatissimi in termini di comfort per l'utenza, informazione, aria condizionata, di sicurezza, collegamento con le centrali di polizia, a videosorveglianza, di rispetto dell'ambiente, Euro 4, metano, elettrico, di attenzione a tutte le fasce sociali e anche i diversamente abili con accesso su tutti questi autobus garantiti. I nuovi autobus avranno tutti il medesimo colore. A decidere quale saranno gli utenti stessi, che potranno scegliere tra una rosa di sei tonalità collegandosi al sito www.unicocampania.it.